grido d'allarme ho ricevuto la seguente lettera pensando che possa essere utile a molti lettori mi affretto a comunicarla loro parigi novembre milleottocentoottantasei signore so che svolgete spesso sia in novelle sia in cronaca argomenti che si riferiscono a ciò che chiamerei la morale corrente ebbene io sottopongo al vostro esame alcune riflessioni che devono a mio avviso servirvi come soggetto per un articolo sono celibe e un po ingenuo a quanto si dice ma suppongo che molti uomini anzi la maggior parte di essi lo siano dal pari di me sempre o quasi sempre in buona fede non so discernere le astuzie di chi mi sta vicino e vedo dritto con gli occhi aperti senza guardare come dovrei né dietro le cose né dietro gli atteggiamenti delle persone quasi tutti siamo abituati a scambiare in genere apparenze per realtà a ritenere la gente per ciò che essa afferma di essere ben pochi possiedono il fiuto sottile che permette a certi uomini di indovinare la natura reale e nascosta dei loro simili risulta da tale ottica speciale applicata alla vita che noi passiamo come talpe in mezzo agli avvenimenti che non crediamo mai a ciò che è ma a ciò che sembra essere che gridiamo all'invelo simiglianza non appena ci si mostra il fatto spoglio da ogni velo e che tutto quanto spiace alla nostra morale idealista viene da noi considerato come eccezione senza calcolare che l'insieme appunto di tali eccezioni forma la quasi totalità dei casi e ancora i creduloni miei pari sono ingannati da tutti e principalmente dalle donne che di queste cose si intendono a meraviglia sono partito da lontano per venire al fatto particolare che mi interessa ho per amante una donna maritata come tanti altri mi figuravo di essermi imbattuto in un'eccezione in una donnina disgraziata che per la prima volta ingannasse il marito ne avevo fatto o meglio credevo di averle fatto a lungo la corte di averla vinta a forza di premure e di amore di aver trionfato a forza di perseveranza ero infatti ricorso a mille precauzioni a mille finezze a mille delicati induci per giungere alla conquista ora ecco ciò che mi è accaduto la settimana scorsa dovendo suo marito rimanere assente da parigi per alcuni giorni la signora si invitò a pranzo in casa mia alla maniera degli scapoli a patto fosse servita a tavola da me per evitare la presenza di domestici da cinque o sei mesi un'idea fissa la tormentava ubriacarsi cioè completamente senza timore alcuno senza la necessità di tornarsene a casa parlare alla cameriera passare di lanzi a testimoni era riuscita spesso ad avere ciò che lei chiamava un gaio turbamento ma non essendosi mai spinta più in là e il poco che aveva gustato essendole parso cosa deliziosa si era ripromessa di ubriacarsi una volta una volta sola ma per bene ai suoi familiari diede ad intendere che sarebbe andata a passare ventiquattro ore da certi amici che aveva nei dintorni di parigi e nell'ora del pranzo eccola a casa mia naturalmente una donna non deve perdere la testa se non dopo aver bevuto dello champagne ne bevette perciò un bicchiere colmo a digiuno e prima delle ostriche cominciava già a divagare il pranzo era composto tutto di cibi freddi ed era bello e pronto su un tavolo posto dietro di me in modo che mi bastava stendere il braccio per prendere i piatti e le vivande e servire alla meno peggio mentre l'ascoltavo chiacchierare beveva senza interruzione sempre fissa nella sua idea dando principio a certe confidenze senza senso a interminabili sulle sue sensazioni di giovinetta e continuava continuava con l'occhio un papago e brillante con la lingua sciolta e le idee lievi si svolgevano senza posa come le listarelle di carta azzurra dei telegrafisti che fanno girare da sé il rocchetto e pare non abbiano mai fine e s'allunghino sempre al rumore dell'apparecchio elettrico che le copre di parole ignote ogni tanto mi chiedeva di sono ubriaca non ancora e beveva ben presto lo fu non già in modo da perdere la conoscenza ma da dire la verità a quanto giudicai alle confidenze sulle emozioni di ragazza successero quelle più intime sul marito il più complete possibili imbarazzanti per me fatte col pretesto cento volte ripetuto a te posso dire ogni cosa o con chi mai dovrei aprirmi se non con te così conobbi le abitudini i difetti le manie i gusti più segreti del consorte mi domandava indicandone l'approvazione non è vero che è volgare credi che ne fui conquistata perciò la prima volta che ti vidi dissi fra me to mi piace e lo vorrei come amante fu allora che cominciasti a farmi la corte doveva essere una faccia ben comica la mia perché se ne avvide nonostante l'ubriachezza e scoppiando in una risata ah babbeo quanti riguardi hai avuto ma non sai che quando ci si fa la corte noi consentiamo subito e che bisogna andare resti se no ci costringete ad aspettare troppo bisogna essere citrulli per non capire alle nostre occhiate che diciamo di sì e io ho aspettato e quanto non sapevo più cosa inventare per farti comprendere che avevo fretta eh sì fiori versi complimenti poi fiori ancora e poi nulla ti vuole altro stavo per piantarti in asso mio caro perché stentavi troppo a deciderti pensare che metà degli uomini sono come te mentre l'altra metà ah 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 all'udirla ridere così mi sentii un brivido correre per la schiena l'altra metà valbettai dunque l'altra metà beveva sempre aveva gli occhi lucidi per lo sfumante l'anima incalzata dal bisogno imperioso di dir la verità dal quale sono colti talvolta gli ubriachi riprese sì l'altra metà valesta fin troppo ha ragione però vi sono giorni in cui non l'azzeccano ma altri in cui ottengono quello che vogliono caro mio se tu sapessi com'è comico due uomini vedi i timidi come te non si immaginano mai come sono gli altri e ciò che fanno subito quando si trovano con noi a tu per tu arrischiano il tutto per tutto anche i ceffoni ma che importa loro sanno benissimo che siamo sempre mute come pesci si conoscono a fondo loro la guardavo con due occhi da inquisitore e con una voglia matta d'indurlo a parlare di sapere tutto quante volte non mi ero fatto la domanda come fanno gli altri uomini con le donne con le nostre donne al vedere in salotto in pubblico due giovani parlare con la medesima donna intuivo che essi trovandosi l'uno dopo l'altro da solo a solo con lei avrebbero avuto un contegno diverso sebbene la conoscessero entrambi allo stesso modo si intuisce subito alla prima occhiata che certi esseri dalla natura forniti di tutte le qualità adatte a sedurre oppure meno impacciati più arditi di noi giungono dopo un'ora di conversazione con una donna che a loro piace a un grado di intimità da noi non raggiunto in un anno e dunque questi seduttori intraprendenti sono quando si offre loro l'occasione propizia audaci di mano e di bocca in modo che a noi timidi sembra oltraggioso ma che le donne considerano solamente come una scusabile impertinenza come un omaggio reso alla loro irresistibile grazia le domandai quindi di è vero che fra gli uomini ce ne sono alcuni i quali sono assolutamente sfacciati si rovesciò sulla sedia per ridere più agevolmente ma era un ridere il suo fiacco morboso quel ridere che facilmente degenera in accesso nervoso quindi calmata si riprese sfacciati li chiami osano tutto ecco e subito tutto capisci e qualche altra cosa ancora trovai ripugnanza come se mi avesse rivelato qualcosa di mostruoso e voi altre lo permettete niente affatto distribuiamo schiaffi a destra e a sinistra ma in fondo ci proviamo gusto sono assai più divertenti di voi quelli là con loro poi si sta sempre in allarme non si è mai tranquillo e aver paura è cosa deliziosa paura di quella cosa soprattutto conviene non perderli mai di vista è come ci si battesse a duello li guardiamo negli occhi per vedere dove vadano i loro pensieri e dove si dirigano le loro mani ammetto che sono maleducati ma in amore sono meglio di voi ero in preda a una sensazione singolare inaspettata quantunque scapole deciso a rimanere tale mi sentì a un tratto dinanzi all'imprudente confidenza come se avessi l'anima di un marito mi sentì l'amico l'alleato il fratello di tutti gli uomini fiduciosi che sono se non derubati perlomeno defraudati da questi degustatori di busti e di corpetti ed è per obbedire a tale emozione che vi scrivo signore e vi prego di lanciare per me un grido d'allarme verso il grande esercito dei mariti tranquilli qualche dubbio tuttavia mi restava quella donna era ubriaca e doveva mentire perciò le chiesi come mai non raccontate a nessuno voi altre questi incidenti mi fissò con una così profonda e sincera compassione che credetti per un momento lo stupore avesse fatto uscire il vino dal capo noi come sei sciocco si può parlare di certe cose forse il tuo domestico viene a raccontarti i piccoli risparmi che sa fare sulla spesa i cinque centesimi rubati sulla lira ebbene per noi quegli incidenti sono appunto i nostri cinque centesimi oltre i quali se non andiamo il marito non ha da lamentarsene sei un ingenuo che male facciamo dal momento che non cediamo continuai ad interrogarla assai confuso sei così dio sa quanti baci avrai ricevuto e lei con piglio di sovrano disprezzo verso chi avanza un simile dubbio perbacco signore tutte le donne ricevono baci prova tu stupidino con una qualsiasi prova a baciare la signora de giovanissima onestissima baciala tesoro baciala toccala e vedrai ah 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 la vedo a un tratto lanciare contro lo specchio il bicchiere pieno lo sciampano ricade come fosse pioggia spegne tre candele mattia le tende e non dal tavolo mentre il cristallo infranto si sparpaglia per la stanza quindi laia afferra la bottiglia per ripetere il gioco ma io glielo impedisco allora si mette a strillare con una voce acutissima e l'accesso nervoso incomincia come avevo preveduto alcuni giorni dopo dimentico di quella confessione di donna ubriaca mi trovai per caso in una festa con la signora de che la mia amante mi aveva esticato a baciare poiché tutti e due abitavamo nella stessa via le proposi essendo sola quella sera di accompagnarla fino alla porta di casa sua e lei accettò di buon grado appena fummo in carrozza dissi fra me bisogna tentare non osavo però non sapevo da dove incominciare da che punto iniziare l'attacco a un tratto ebbi il coraggio disperato dei pigri come sei bella stasera esclamai è dunque un'eccezione rispose ridendo dal momento che ve ne siete accorto per la prima volta rimasi muto decisamente la schermaglia galante non faceva per me non di meno dopo averci alquanto pensato trovai qualcosa da risponderle no ma non ho mai avuto il coraggio di dirvelo se ne mostrò stupita e perché perché è un po difficile come è difficile dire a una donna che è bella ma da dove venite si è invece l'obbligo di dirlo sempre anche quando lo si pensa solo a metà perché a noi fa sempre piacere mi senti improvvisamente animato da un'audata straordinaria recingendola la vita e cercai le labbra con la bocca dovevo però tremare come una foglia e sembrarle per niente temibile dovetti inoltre combinare ed eseguire malissimo movimento perché lei non fece che girare la testa per evitare il contatto dicendo oh ma no è troppo troppo come correte badate alla mia acconciatura ma si può baciare una donna acconciata come lo sono io stasera avevo ripreso il mio posto smarrito desolato per tale sconfitta fortuna che la carrozza non tardò a fermarsi dinanzi alla porta di casa sua lei discese mi porse la mano e con voce graziosissima vi ringrazio caro signore mi disse per avermi accompagnata e vi esorto a non dimenticare il mio consiglio tre giorni dopo rivedutala mi convinzi che aveva scordato ogni cosa e io signore penso di continuo agli altri a coloro che sanno tener conto delle acconciature e cogliere tutte le buone occasioni sottopongo questa lettera senza cambiarvi una parola alle riflessioni delle lettrici e dei lettori siano o no maritati grazie a tutti Grazie a tutti